Siamo molto onorati della vostra presenza, siamo alla penultima serata, siamo quasi alla fine di questa esperienza, anche se non vediamo l'ora di ricominciare. Abbiamo cominciato a immaginare quello che potevamo fare a Roma per quest'estate, ecco non avrei immaginato che saremmo arrivati sin qui. Con il teatro lavoriamo in modo parallelo, nei film lavoriamo insieme purtroppo, fiacca a fiacca. Noi lavoriamo sulle sequenze, sul frammento, il cinema è un insieme di frammenti che poi compongono l'opera, noi non abbiamo mai fatto il teatro, l'abbiamo fatto solo il cinema.